Dopo aver atteso per mesi e mesi l'estate, la voglia di sdraiarsi al sole rilassandosi in spiaggia, al lago, in piscina o in barca è quasi irrefrenabile. Soprattutto le donne, si sa, difficilmente riescono a resistere all'idea di una pelle dalle calde sfumature bronze, anche se sono sempre di più gli uomini che amano sfoggiare una bronzatura curata. Ma se ha bronzatura, forma binomio con bellezza, ciò che non deve assolutamente mai essere trascurato è la cura della pelle e, in primis, la sua protezione proprio sotto i caldi raggi solari. Per rispondere a tante domande sulle buone practice, da non dimenticare mai quando ci si espone al sole, le profumerie sabbioni hanno organizzato uno speciale appuntamento, una scuola solari, con un'esperta nella linea di prodotti solari Lancaster. In una saletta riservata al primo piano del ristorante La Terrazza, a Marinara, di fronte al porto turistico e cullate da una piacevole brezza pomeridiana, la formatrice Lancaster ha svelato tutti i segreti per prendersi cura della propria pelle sotto il sole, per prepararla, proteggerla e prolungare una bronzatura usando i solari adatti al proprio fototipo. Estate, sole e protezione. Perché è importante proteggere la pelle dal sole? È assolutamente importante proteggere la pelle dal sole per preservarne la bellezza e assolutamente per limitare i danni che le radiazioni solari apportano al nostro DNA. Con Lancaster questo è possibile grazie ad una serie di prodotti indicati per le diverse particolari esigenze di tutte le consumatrici e grazie alla specifica e unica tecnologia Full Light Technology che è presente in tutti i prodotti Lancaster che svolge tre funzioni principali. L'effetto di assorbire le radiazioni solari, di rifletterle e di neutralizzarle. Questo ci permette di offrire appunto una protezione 100% contro le radiazioni solari verso i raggi UVA, UVB, infrarossi e luce visibile. E per scoprire tutte le novità dedicate alla cura della pelle sotto il sole e l'appuntamento in tutte le profumerie sabbioni con i consigli delle esperte di bellezza e gli sconti sui solari fino a fine agosto come spiegatoci da Matilde Montaldi, responsabile dei punti vendita sabbioni. In tutte le profumerie sabbioni le consulenti di bellezza vi aspettano per consigliarvi i prodotti più idoni per una bronzatura sicura e che duri nel tempo. Oltre alle numerose offerte che ogni settimana le profumerie sabbioni vi propongono, sino al 31 agosto per tutta l'estate 2018 ci sarà uno sconto del 30% sulla maggior parte dei solari.